Mi chiamo Adelaide Bertini, vivo a Treviso e sono nata il 31 gennaio del 2006. Mi piace molto ballare, infatti dall'età di 4 anni pratico la danza classica e da qualche anno anche quella contemporanea. Quando ero piccola ho fatto servizi fotografici e anche qualche spot pubblicitario. Ora frequento la Master Film Academy perché da grande vorrei fare l'attrice. Ora vi mostro i miei profili. E le mie mani. Ciao!